Sì, oggi non sto utilizzando il microfono che solitamente utilizzo per questo genere di video Il perché? Per chiedetelo a lui, che ogni tanto decide di non funzionare così a caso Eeeh, questi microfoni di oggi Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale ma soprattutto benvenuti in questo nuovissimo video Oggi, come detto dal titolo, ho visto le miniature, in realtà praticamente ovunque Siamo tornati con un altro episodio della serie sulle vostre postazioni, pc, setup, gaming, chi ne ha più ne metta Se diciamo che il nome va un po' perfeccionato, però quello rimane un altro problema Per tutti coloro che fossero approdati qui per la prima volta su questo canale, che cosa faremo in questa serie? Beh, è molto semplice Ovvero, dare un'occhiata alle vostre postazioni, che mi avete inviato la mail che trovate in descrizione E poi, ovviamente, questo, cioè, fine Detto questo, direi di non perderci in troppissime chiacchiere e partire subitissimo Oh, e quindi ben ritrovati in questo nuovissimo episodio che è il 38esimo Me lo so ricordato stavolta, no, non è vero, l'ho controllato prima E prima di cominciare, naturalmente, vi ricordo, come sempre, che se volete partecipare Vi basta inviarmi tutte le foto alla mail che trovate in descrizione Le regole, info e tutte le cose le trovate in descrizione E poi, ovviamente, prima di cominciare, per supportare la serie Ma soprattutto se, in qualche modo, l'individuo che avete di fronte vi sta un minimo simpatico Lasciate un bel like sotto a questo video e, ovviamente, iscrivetevi al canale Anche perché ho visto che una buona parte di Vines è la maggior parte di voi Che guardate i miei video e non siete iscritti Quindi, iscrivetevi, mi raccomando, ed entrate a far parte della Epic Family Ok, magari questa parte qui andava risparmiata Detto questo, non prendiamoci in troppe chiacchiere con cavolate varie E dunque, iniziamo subitissimo Da che cosa? Dalla quinta posizione di oggi Andiamo quindi con la quinta posizione di questo video Anzi, il primo setup che effettivamente inaugura l'episodio Che si aggiudica esattamente l'Oper Spero di aver pronunciato il nome giusto Ma, come dico sempre, se appunto sbaglio Potete tranquillamente venirmi a pestare Andiamo quindi a vedere quelle che sono le periferiche principali Per poi vedere il PC, eccetera, eccetera E direi di partire da dove? Se non appunto dai monitor Partiamo ormai sempre da quelli Cioè, penso sia diventato un meme In questo caso, come potete notare La postazione è provvista di ben due monitor Il principale, che è questo LG È un 144Hz, 24 pollici Mentre il secondario è un semplicissimo 60Hz di Samsung Rigorosamente entrambi i due monitor Sono agganciati a dei sostegni Questo ci sta, è un'ottimissima soluzione Mentre per quanto riguarda quelle che sono le periferiche Vediamo un bel po' di cosettine A partire dalla tastiera, super mega gigante Che è di casa Razer La Razer ornata qualcroma Una roba simile Mentre per quanto riguarda il mouse Abbiamo un Logitech G502 Hero Periferiche comunque di ottimissima qualità E poi ovviamente non finisce qui Perché abbiamo anche ben due controller Uno della PlayStation 4 messo qui Mentre quest'altro invece è di Scaf Gaming Il modello ci ha scritto essere Impact Mi piacciono davvero un sacco di Scaf Però io non utilizzando il pad, ahimè Non ne ho mai comprato uno Anche perché costano abbastanza E in realtà è proprio perché costano abbastanza Che non ne ho mai comprati Però poi come ultimissime cose Troviamo ovviamente questo paio di cuffie Che sono le iPad X Cloud E poi completano la postazione Oltre che la sedia di Diablo Gaming Molto carina In formato super mega gigante Abbiamo delle mensole Con varie Funko Pop Trofei Lego Eccetera eccetera Ci sta Molto molto carina Poi altra cosa che mi è piaciuta È la schivania La schivania da gaming Che come possiamo notare È appunto già provvista Di questo tappetone Super mega XL E questa è una delle cose Che mi piace Delle schivanie appunto da gaming Per quanto invece riguarda Il PC Che abbiamo proprio qui Dinanzi Al suo interno Beh troviamo delle componentine Niente niente male Al partire dal processore Che è un i7 11700K Se non ricordo male Poi 16 GB di RAM Ovviamente rigorosamente RGB Ed infine Dolce Simfund Una RTX 3070 Di gigabyte Cioè questa qui È veramente Una figata assurda Oltre al fatto Che sia parecchio introvabile Però quello È un altro conto Non tocchiamo questo tasto Comunque per il resto È cavolate a parte Direi che ci sta Assolutamente tantissimo Mi piace anche il case Bello spazioso RGB Bianco Molto molto bello Ma detto questo Procediamo con il quarto setup Di oggi Su Dai andiamo avanti Che se no qui la storia Si fa sempre molto lunga E come quarta posizione Vi ho selezionato Proprio il setup Di Elia Che a mio avviso È davvero un sacco Un sacco Un sacco bello Un sacco bello Quanto minimale Perché effettivamente Non ci sono molte cose Però il tutto È posizionato in maniera Molto molto pulita Come possiamo notare E dire quindi Di iniziare da come al solito Il monitor Mi pare ovvio Logico In questo caso abbiamo Un MSI 165 Hz Full HD 24 pollici E chi ne ha più ne metta E poi qui sopra Abbiamo anche un televisore Che effettivamente È stato montato Un po' storto Ma leggermente O magari sarà semplicemente Una questione di prospettiva Non lo so Però comunque Questo dovrebbe essere Un 32 pollici Se non ricordo male Di Samsung E poi Beh basta Andiamo con le periferiche Come periferiche Qui abbiamo due componenti Molto molto belli A partire dalla tastiera Che è una Glorious GM MK Pro Tastiera che naturalmente Oltre ad essere molto bella Carina È abbastanza costosa Anche il mouse È molto interessante Perché si tratta D'essere di un Logitech G502 Però la versione wireless E poi ovviamente Questo tappetozzo Super mega gigante Che ricopre solo La superficie del mouse Di Asus ROG Molto molto carino Anche questo Poi per quanto riguarda Il contesto in generale Della postazione Oltre chiaramente Le cuffie che troviamo qui Che sono delle Asus ROG Qualcosa Mi è piaciuto tantissimo La disposizione Di questi quadretti Qui sopra E soprattutto Di questo neon Bellissimo Io sono assolutamente Un amante di questi neon Davvero Potessimi riempire Tutto quanto Pieno di neon Ma ovviamente Non lo farò Anche perché Insomma Non vorrei diventare Il miglior amico Dell'Enel E poi Ultimo componente E questa bellissima sedia Che è proprio quella Che ho io Uguale identica Per quanto invece Riguarda il PC E prima di passare al PC Però vorrei fare un appunto Cioè La disposizione termosifone PC a fianco Non l'appoggio Moltissimo D'altro perché A meno che questo Non rimanga spento Ma non credo Diciamo che non è Propriamente la posizione Più adatta Però la cosa In realtà è soggettiva Per quanto invece Riguarda effettivamente Il PC Che è questo bestione qua Abbiamo un processore Che è un i9 10.000 qualcosa K 32 GB di RAM Buone Ed infine Come scheda video RTX 2070 Direi assolutamente Niente male Anzi Detto questo Ti ringrazio per avermi inviato le foto E adesso andiamo con la top 3 di questo video Che come dico Sempre Sempre la parte Più succosa di tutto O forse Chi lo sa E andiamo quindi Con il setup di Carlo Allora Il setup devo dire Che è assolutamente Molto molto bello Super super mega minimal Penso che sia forse uno tra i migliori minimal setup mai visti Abbiamo davvero un sacco di belle periferiche A partire da questo monitor super mega gigante Di Asus ROG Da 43 pollici Ma il cuore pulsante di questa postazione È chiaramente questo MacBook da 13 pollici Che non è col chip M1 Che cosa che c'è scritto presto vorrà cambiare E al di là di questo Comunque ci ha voluto affiancare Diverse periferiche Molto belle anche in questo caso Stiamo parlando della Magic Keyboard Mi pare che questa sia l'ultima versione Anche perché è in colorazione nera Così come anche il Magic Mouse E poi la cosa che assolutamente più mi è piaciuta In ambito periferiche È questa Asus ROG tastiera Che non mi ricordo Ma anche il modello Il modello Tron L'ho appena letto È veramente bella Compatta Costosa Costosa E naturalmente tutte le periferiche Sono appoggiate su questo tappetone Super mega giganterrimo Dato qui stiamo scorrendo le varie immagini Sul cable management Che è fatto veramente molto bene Anche in questo caso Dicevo tappetino Sempre di Asus ROG Modello XXL Questo ragazzo Come ci ha scritto anche È un fanboy di Asus ROG Molto bene Poi altre cose che ci sono Naturalmente due belle mensolone Super mega giganti Con varie Funko Pop Da questo lato di qua E da questo lato di qua Diversi droni Camere GoPro E basta E poi in realtà direi che la postazione È bella che finita Anzi L'ultimissimo componente Si tratta proprio Ad essere di questa scrivania Scrivania motorizzata Flexi Spot Non mi ricordo Ma è il nome Comunque al di là di questo Davvero tanta tanta roba Come postazione Soprattutto ben realizzata E adesso invece andiamo a vedere La seconda posizione Di questo video E la seconda posizione di oggi Se la vado a giudicare Esattamente Andrea Devo dire che il setup Mi è piaciuto davvero Particolarmente tanto Sia per l'accostamento Di colori Ma sia soprattutto Per il pc Per i feri che Un po' tutto nell'insieme Ma come sempre Direi che possiamo partire Da quello che è il monitor E anche in questo caso Devo dire che abbiamo Un altro fanboy Di Asus ROG Perché monitor Per i feri che cuffie Sono interamente di Asus Anzi 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 Qui cosa vedo nei miei occhi Abbiamo Aurus MSI I core 6 No niente Non va bene Cavolo da parte Naturalmente andiamo a vedere Quello che è il monitor Che c'è scritto Essere un Asus ROG Sempre da 24 pollici A ben 165 Hz E 2K Tra l'altro piccoli easter egg Ma su questo pc qui Ci è installato ancora Windows 7 Fammi sapere Qui sotto nei commenti Se è magari Una tua scelta Per una questione Pratica Oppure semplicemente Perché ti piace ancora Il sistema operativo Insomma Fammi sapere nei commenti Tralacendo questo Andiamo con le periferiche Come dicevo prima Entrambe le periferiche Sono di casa Asus ROG La tastiera è una full meccanica Modello Flare Mentre il mouse era Non me lo ricordo più Modello Pugio E poi ovviamente Entrambe le periferiche Sono appoggiate su questo Tappetino RGB Di marca Che boh Non si sa però RGB è questo l'importante Per quanto riguarda Invece il comparto audio Abbiamo le cuffie Che sono praticamente Uguali identiche A quelle del setup precedente Così come anche Il piedistello Per sorreggerle E poi infine Qui dietro vedo anche Un impiantino stereo Di Logitech Per quanto riguarda Il resto Beh in realtà Non c'è moltissimo da dire Perché l'ultima cosa Che rimane è naturalmente Il PC Che a mio avviso Secondo me È una bomba A livello visivo E stiamo parlando Proprio di lui Esattamente Tra l'altro mi voglio soffermare Sul fatto che La foto sia stata fatta Molto 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 bene Comunque per quanto riguarda I componenti Abbiamo un 5600X Poi 32GB di RAM Naturalmente RGB Di casa G-Skill E poi come scheda video Abbiamo una RTX 3080 Ti Direi assolutamente Una buona scheda Sì insomma Una scheda mediocre Ah ma quanto sono simpatico Comunque Al di là di queste Perle di saggezza Dire che questo è un setup Assolutamente niente male Vi faccio naturalmente I complimenti Ma adesso andiamo a vedere Quella che è la prima posizione Di oggi E vediamo appunto Chi se l'ha giudicata E la prima effettiva Posizione di questo video Va da giudicarsela Patrizio Con il suo setup Che è proprio questo Che vedete Devo dire che Mi è piaciuto davvero Particolarmente Sia per l'accostamento Di colori in generale Ma sia soprattutto Per come è strutturato Infatti penso E credo Che lui faccia streaming Anche perché Un setup Mi sembra improntato Su quello Ma andiamo a vedere I componenti Ovviamente abbiamo Un setup dual monitor Giustamente Il monitor principale E un predator 144 hertz 24 pollici Mentre nel secondario C'è scritto essere DLG Ci sta anche il fatto Che lui le abbia sorretti Grazie a questo palo Cosa che in realtà Vi consiglio quasi sempre Di fare Perché è una soluzione Molto comoda Vi permette di acquisire Un sacco di spazio in più E che si Ha anche quel tocco Estetico più bello Comunque a dire di questo Passiamo a quelle che sono Le periferiche In particolare abbiamo La Strik 65 di Fanatic Tassiera che tra l'altro Possiedo anch'io Lo so che non interessa a nessuno Ma volevo dirlo E poi come mouse Abbiamo un Logitech G502 Hero Wireless Anche questo L'abbiamo visto In una postazione passata Con parodio Che è costituito Da questo Shure SM58 Le cuffie invece Sono il Logitech G Pro X E infine come ultimo Oggetto Che più che altro Questo è più Legato allo streaming Troviamo una Canon M3 Beh devo dire che comunque È anche molto apprezzato Il fatto che abbia utilizzato Vari supporti Per sostenere la fotocamera In alto Così come questo paretto Insomma Hai fatto un ottimissimo lavoro E tra l'altro Qui nell'angolo Vedo delle varie cose Probabilmente la maggior parte Tutte legate Al settore audio Del microfono E poi come ultimissime cose Prima di passare naturalmente Al PC Abbiamo una striscia LED Posizionata sul retto Della schivania In più abbiamo anche Questa forma mistica Di pannelli Fonoassorbenti Messi sul muro Che secondo me Ci stanno un sacco Cioè io non so Se tu abbia inventata Completamente da zero Oppure abbia trovato Un qualcosa online Veramente una cosa Super super mega bella Per il resto Quindi l'ultimo componente Che rimane all'appello E naturalmente il PC All'interno infatti Troviamo come processore Un Intel Core i9 10900 RAM boom 32 giga Che purtroppo Non sono RGB Ah abbiamo trovato Una pecca del setup Ovviamente sto scherzando E poi come ultimissimo componente Abbiamo la scheda video Che come si può Tranquillamente leggere Si tratta di essere Di una bella GT 710 Si lo so Non sono simpatico Ma proprio per niente Tra volata a parte La scheda video Come potete tranquillamente Notare Si tratta di essere Di una RTX 3070 Ti Beh assolutamente Direi super super mega OP Bello anche il case Betrato Di Corsair Beh che dire quindi Questo in definitiva Era il setup Anzi l'ultimo setup Di quest'oggi Spero che questo video Vi sia piaciuto E spero soprattutto Che i setup visti oggi Li abbiate trovati interessanti Io particolarmente Sono rimasto molto stupito A parte chiaramente La postazione 3 Di vari pc Che bene o male Avevano quasi Componenti di fascia Molto molto alta E quindi niente Come sempre Io vi ringrazio per la visione Noi ci becchiamo Alla prossima Vi saluto Ciao a tutti